Il Santo Maso presenta al pubblico la propria squadra. In occasione della festa patronale di Sant'Alfonso Maria degli Guori vi sarà la presentazione ufficiale della Rosa alle ore 20 e 30. La compagine irpina, dopo una campagna acquisti di assoluto livello, non vorrà certamente fare un campionato da comparsa, come sottolineato nella sua conferenza stampa di presentazione anche da Mr. Stefano Liquidato. Parole che hanno trovato già conferme nella prima amichevole di mercoledì contro l'equipe Campania. Al di là della vittoria per 3-2 si è vista già l'applicazione di alcuni dettami tattici del neotecnico dei Grifoni. L'appuntamento, dunque, è per questa sera alle 20 e 30, per poi domani scendere nuovamente in campo alle 16 e 30 per un altro test amichevole al Modestino De Cicco di Prato la Serra.